Attenzione agli acquisti su Temu, anzi cerca di non farli proprio, e questo è il messaggio che vuole lanciare LB Bikini, una tiktoker proprietaria di un brand di bikini appunto. Ebbene, nella sua video che ha condiviso su TikTok, che tra poco vedrai, condivide la sua storia, che quando stava facendo gli acquisti su Temu, si è appunto visto degli addebiti molto sospetti. Ti lascio ovviamente al video in cui lei racconta il tutto, ma comunque fai particolarmente attenzione a questi siti cinesi. Attenzione, quando fate gli ordini su Temu, sono stata fregata io dieci anni di attività online e quattro shop online. Sono stata fregata, la mia carta è stata clonata, ho solo dieci euro sulla carta al momento, ne hanno acquistati di shopping, viaggi e altri soldi, non so dove siano finiti, ci sono ovviamente tutte le transazioni e sto avviando un procedimento con la mia banca, anche se mi hanno detto che risulta un po' difficile avere i soldi perché la transazione è stata approvata. Ho fatto l'ordine su Temu, lì dovevo già insospettirmi per i prezzi bassissimi, 1,50 euro, ho comprato così per la casa e per l'auto e anche con spedizione gratuita. Però lì non mi sono sospettita perché ho pensato ad una possibile concorrenza con Shane e Amazon, invece nulla, ho scaricato l'app, ho fatto l'ordine e la mia carta è stata clonata dopo pochissimo, quindi fate attenzione.